Beach Handball, ma sulla spiaggia alle mie spalle naturalmente non può e non deve mancare il Beach Tennis. Beach Tennis con tante coppie che hanno deciso di giocare a Francavilla al Mare all'interno di Sport Fitness Festival, ma anche naturalmente a Giulianova, ma è tradizione ormai acclarata quella della Beach Tennis and Sports, oltre che di Planet Beach a Francavilla al Mare che ha portato anche lo Sparring Vloop, il nuovo tormentone dell'estate. Ci sono anche i giochi per bambini, in altri tempi questa struttura al cui interno ci troviamo sarebbe stata pienissima di bambini e di bambine, ma adesso stranamente no, sarà a causa del Beach Tennis, dello Sparring Vloop al quale stanno giocando in tantissimi? Evidentemente sì, evidentemente sono cambiati i tempi. E quando si parla di Beach Tennis non può mancare il tormentone, il Sparring Vloop, vi abbiamo visto in diverse spiagge, ma sempre più spesso in Abruzzo, perché quando venite in Abruzzo con la vostra attrezzatura, che più tardi vedremo nel dettaglio, anche nelle immagini, una grande festa. Francavilla, ma anche Giulianova e altre parti dell'Abruzzo vi accolgono sempre. Sì, sì, Giulianova è il nostro amico Francesco Sarti, abbiamo iniziato praticamente la stagione lì, inizio stagione c'è stato un bel torneo di un buon livello internazionale, e noi come al solito siamo arrivati con il nostro Sparring, dove abbiamo fatto delle belle sfide con i campioni del mondo, e quindi lì, quando in quelle occasioni, il livello si alza, quindi è anche bello da vedere come... Non è soltanto un gioco, è anche un mezzo di allenamento molto efficace. Perché? Allora, basti pensare che nel mondo del tennis la maggior parte dei giocatori hanno iniziato a giocare contro il muro, per imparare, per automatizzare un movimento, magari quello del dritto o quello del rovescio. Abbiamo pensato di inventare questo gioco proprio per iniziare a migliorare delle tecniche che riguardano proprio il beach tennis. Come diceva il mio socio, la rete è alta 1,70, quindi ripropone lo stesso movimento, la stessa misura del beach tennis. Infatti lo consigliamo per le scuole di beach tennis, per l'abbiamo a questo sport, per i ragazzini, per appunto meccanizzare un movimento che ha la stessa altezza, le stesse misure di un campo del beach tennis. La vostra idea parte dal passato, può sembrare una cosa banale, ma l'hai detta tu. In tantissimi sport i grandi campioni hanno cominciato a giocare contro il muro. Oggi, che di muri liberi ce ne sono sempre di meno, siete subentrati voi. È una grande idea. È una grande idea, infatti abbiamo pensato, o giochiamo contro una cabina o riproduciamo un campo da beach tennis a forma di racchettone. È molto bello, soprattutto è un attrezzo che i bambini rimangono abbagliati, perché come riprodurre un pallone gigante, una racchetta gigante, è una grande attrazione per i bambini. Grazie a tutti.